Il Friuli Venezia Giulia è il luogo ideale per vivere, lavorare e investire attraverso il lavoro compiuto dall'Agenzia Lavoro e Sviluppo e Impresa. Puntiamo a farlo sapere sia a chi ha lasciato l'Italia, sia a chi come i nomadi digitali dell'Unione Europea o del Regno Unito è la ricerca dei propri spazi. Il Friuli Venezia Giulia offre un sistema, un ecosistema sia economico, sia penso alla ricerca, ma sia appunto come qualità della vita, sia per gli stranieri che vogliono scegliere Friuli Venezia Giulia, sia per gli italiani che vogliono tornare, può garantire le grandi opportunità che offrono anche le grandi metropoli, ma una qualità della vita decisamente superiore a questa. L'ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, prendo oggi a Londra la prima edizione del Moving to Italy Show and Seminari, evento organizzato al Royal Automobile Club dalla Camera di Commercio e Industria Italiana per il Regno Unito con la collaborazione dell'Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa e il supporto di Promoturismo FWG per presentare i vantaggi di vivere in Italia. Vogliamo continuare ovviamente a far crescere le azioni che vogliono portare nuovi investimenti e nuove opportunità per la nostra regione e dare attraverso la nostra regione nuove opportunità a chi sceglie di investire in Friuli Venezia Giulia. A confermare l'attrattività del Friuli Venezia Giulia, spiega una nota, sono state portate sul palco alcune testimonianze di stranieri che hanno scelto di trasferirsi in regione a partire dal critico cinematografico Alan Jones, divenuto direttore artistico del Trieste Science Plus Fiction Festival. Il mondo cambia rapidamente e le strategie regionali unite alle politiche fiscali messe in campo dal governo per contrastare la cosiddetta fuga dei cervelli rendono il nostro territorio assolutamente appetibile per i professionisti. Così ha chiuso Fedriga.